Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Soarin e all'appuntamento settimanale con il Manga News 24 di ogni lunedì. Anche questa settimana ci sono stati alcuni avvenimenti che hanno sconvolto un pochettino il mondo manga e tantissimi lettori infuriati con Planet e quindi andremo a capire cosa è successo con sta Steelbox di Naruto, errori, controerrori, provocazioni, non si sa cosa sia realmente successo dietro tutta questa vicenda ma andiamo un attimino a vedere passo passo tutto quello che è successo realmente. Poi Nintendo il giorno del compleanno di Pokémon ha finalmente annunciato i nuovi videogiochi a tema mostriciattoli e quindi ci sono queste due grosse novità di questa settimana, alcune news abbastanza interessanti su dei manga che stanno iniziando, su dei giochi tratti da manga e concluderemo come la settimana scorsa, visto che mi avete detto che ne eravate entusiasti di questa novità, di questo nuovo format, con le uscite di questa settimana. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo con la sigla e poi andiamo a ascoltare tutte le novità e tutte le uscite di questa settimana. E come preannunciato all'inizio, la prima grande notizia che ha un attimino scosso il mondo manga di questa settimana è appunto la Steelbox di Naruto. La Steelbox di Naruto cosa è successo? Che una sera verso le 6, 6 e mezza se non forse anche prima e poi vi spiegherò perché questo orario, ad un certo punto sul sito della Panini troviamo questa schermata, non nessuno se l'aspettava perché non c'è stato effettivamente nessun comunicato ufficiale che l'avrebbero messa in vendita, ancora non sapevamo neanche quale fosse la Steelbox della messa in vendita questo mese, ma tutto ad un tratto era acquistabile. Io personalmente l'ho scoperto verso le 10 di sera di quel giorno e mi sono ovviamente fiondato a prenotarla e ci sono riuscito fortunatamente. Però poi guardando nelle storie delle persone su Instagram ho visto che già hanno iniziato a mettere delle storie taggando, menzionando Planet Manga verso le 6, 6 e mezza e qui mi sono posto una domanda, quando poi Planet ha annunciato di non sapere assolutamente nulla, di non sapere come sia successo di questa messa in vendita tutto ad un tratto, dico ma è possibile che dalle 6, 6 e mezza, quando le persone che seguo io hanno iniziato a taggare Planet Manga fino all'indomani mattina verso le 9, 9 e mezza, nessuno si sia accorto di avere secondo me almeno un centinaio di dimensioni tutti su una storia dove facevano vedere che era possibile acquistare questa Steelbox. Il secondo dubbio che mi è venuto è il prezzo. Il prezzo è sceso di un euro rispetto alle altre Steelbox, infatti era preordinabile al prezzo di 18,90 euro e neanche farlo opposta era un euro in meno rispetto alle altre e un euro in meno per avere la spedizione gratuita. Quindi sembrava proprio una mossa di mercato perfetta perché a quasi nessuno piace pagare le spese di spedizione, parliamoci chiaro. Quindi o hanno pagato le spese di spedizione e quindi hanno speso più dei 19,90 euro delle altre Steelbox, oppure come me abbiamo aggiunto altri prodotti e comunque abbiamo speso di più. Quindi era fatta come una reale prevendita che costa un pochettino meno, ma in questo caso quell'euro che ci hanno tolto alla fine l'hanno riguadagnato sicuramente o con le spese oppure con nuovi acquisti. Io qua voglio sapere voi in che condizioni siete e cosa sperate che faccia adesso Planet Manga perché chi l'ha ordinato come me lo sa, tutte le ordinazioni risultano in elaborazione, quindi sembrerebbe che siano stati accettati che siano in lavorazione. Il problema più grosso è capire se Planet ha ancora dei residui in magazzino oppure se è esaurito, oppure se addirittura le prenotazioni hanno superato i numeri che avevano in magazzino. Quindi siamo veramente tutti in attesa perché il giorno di rilascio ufficiale era il 25 febbraio, ma da quella mattina dove hanno tolto tutto non si hanno più notizie, quindi anche il 25 febbraio stesso non è mai più stata rimessa in vendita, è proprio scomparsa dal sito, non è come quella di Death Note che viene oscurata, non si può cliccare qua, non esiste proprio più. Quindi io personalmente spero che il mio ordine mi venga consegnato perché non ho fatto niente di male, ho sentito tanti dire, ah chi ne ha comprate 20 copie deve cancellarlo. Il problema grosso è che a Planet purtroppo non gliene frega assolutamente nulla, così come a tutte le altre case editrici. Chi ne compra quante? L'importante è che le venda e che abbia il suo guadagno, quindi secondo me o le cancellerà tutte o le accetterà tutte indipendentemente dal numero di copie acquistate. Io qua posso anche darvi ragione sul fatto che il bagarinaggio nel mondo manga non dovrebbe esistere perché ancora non si sa se gli ordini sono confermati su Facebook, Marketplace, eccetera, eccetera, sui vari gruppi, su eBay ci sono già chi vende le steelbox di Naruto e questa è una cosa abbastanza assurda. Ma in ogni caso voglio sapere voi cosa ne pensate di tutta questa faccenda e come vorreste che Planet risolvesse questo problema. Ora andiamo avanti, passiamo alla seconda grande notizia della settimana, ovvero l'annuncio dei nuovi giochi Pokémon per Nintendo Switch. Era una notizia che già in tanti si aspettavano, circolava già nell'aria quasi da un anno, così a memoria mia, ed è finalmente arrivata la conferma il 26 febbraio per il 25esimo compleanno di Pokémon del fatto che verranno ristampati Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Si chiameranno Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente e ci riporteranno così alla quarta generazione, al mondo di Sinnoh e quindi andremo a rivivere una delle avventure, secondo me, più sottovalutate di tutti i giochi Pokémon perché se ne sente parlare sempre un po' meno rispetto a tanti altri ma invece è stato comunque un... sono stati veramente dei bei giochi anche questi. Qua invece voglio sapere da voi qual è il vostro starter preferito, chi avete preso o chi prenderete se deciderete di acquistare questi remake tra Turtwig, tra Chimchar e tra Piplup. Io personalmente avevo preso quasi sempre il Pokémon d'acqua perché poi la terza evoluzione mi piaceva veramente tantissimo. Sono un grande fan dei giochi Pokémon, li ho acquistati tutti, ho acquistato anche le espansioni per quanto riguarda Pokémon Spada e Pokémon Scudo e ci stavo giocando appunto in questi giorni, stavo cercando di completarle e quindi sicuramente anche questi entreranno a far parte della mia collezione di videogiochi Pokémon che ormai va avanti dal 1997 con addirittura Pokémon giallo in inglese perché ancora non era arrivato in italiano. Ma quindi anche qua voglio sapere da voi se giocate a questi titoli, se avete la Nintendo Switch e soprattutto quale degli starter di questa quarta generazione invece è il vostro preferito e prenderete probabilmente se acquisterete questi giochi. Terminate queste due macro notizie, diciamo, passiamo adesso a parlare delle piccole news un pochettino più interessanti rispetto alle altre che abbiamo visto in questa settimana. Shintaro Kago, uno dei fumettisti alternativi giapponesi più conosciuti in Occidente, autore di manga come Fraction, Kagopedia e Diari di Massacre e molti altri, torna in libreria in Italia con un nuovo volume intitolato Demenzia 21. Questo manga si inserisce nell'ormai tipico stile dell'autore che mescola violenza, suspense e perversione, grazie a un approccio narrativo cervellotico e un disegno realistico. Demenzia 21 sarà un volume brossurato da 304 pagine a colori e in bianco e nero a un prezzo di 22 euro e sarà pubblicato da Ikari 001 Edizioni a partire dal 24 febbraio 2021. La casa editrice giapponese Shogakugan ha annunciato che a maggio esordirà Two Bit, manga di genere Hard Boiled, sceneggiato da Buronson, co-creatore di Kenny il Guerriero insieme al disegnatore Tetsuara. Ambientato a Kabukicho, il distretto a luci rosse di Tokyo, il manga avrà per protagonista Ageo, un uomo di mezza età, che apre un'agenzia investigativa e il detective Okura, che resteranno coinvolti in vari casi. La loro prima cliente sarà una liceale che vuole comprare una pistola. Nella giornata di lunedì Cyber Agent ha rivelato che il titolo per dispositivi mobili The Promised Neverland Escape from the Hanting Ground, basato sul franchising nato dal manga di Demizu e Kaiushirai, arriverà in Giappone nella primavera di quest'anno. Il gioco di The Promised Neverland, che approderà su dispositivi sia Android che iOS, permetterà a quattro giocatori online di unire le proprie forze per trovare delle vie di fuga all'interno di mappe basate sulle ambientazioni del manga. Si potranno controllare diversi personaggi e utilizzare un'ampia varietà di armi per sfuggire dai demoni e sconfiggerli quando sarà necessario. L'app sarà gratuita anche se conterrà degli acquisti in app. La pre-registrazione è già stata aperta. Black Clover sta riscuotendo sempre un maggior successo in Giappone e la pubblicazione dei capitoli è diventata settimanale. Il problema è che il Sensei molte volte si ritrova a consegnare il tutto a ridosso delle scadenze e pubblicare su Shonen Jump un capitolo a volte anche con alcune tavole soltanto abbozzate. Per evitare una situazione analoga, Tabata ha deciso in comune accordo con la redazione di non pubblicare il nuovo capitolo questa settimana. Pertanto Black Clover è in pausa e non uscirà questa domenica su Manga Plus bensì nella settimana subito seguente. Nessun motivo di salute ma solo problemi di produzione legati presumibilmente a ritardi nelle schedule. E queste erano appunto le quattro notizie un pochettino più interessanti diciamo di tutta questa settimana. Ho visto veramente tante novità che riguardano però degli spoiler degli ultimi capitoli come spesso accade e quindi non ho assolutamente intenzione di portarle ovviamente su questo canale. E ora ragazzi è arrivato uno dei momenti sicuramente più attesi di questo video infatti andiamo a parlare di che cosa troveremo nelle fumetterie e nelle edicole questa settimana. Piccola premessa purtroppo per quanto riguarda Planet Manga ha annunciato soltanto due ristampe ma io sono convinto che di alcuni volumi, di alcuni manga che stiamo aspettando ci sarà qualcosa anche questa settimana anche se non abbiamo la data ufficiale. Infatti vi faccio degli esempi il cofanetto di Attacco dei Giganti, il cofanetto di Berserk il cofanetto di Longwolf e Cub, il primo numero di Akira di tutte queste opere non sono ancora state rilasciate delle date ufficiali quindi può essere che alcuni di questi titoli verranno inseriti già questa settimana. Ma ora iniziamo subito, non perdiamo altro tempo e vediamo cosa ci riserverà questi mercoledì e giovedì perché sono le due date nelle quali uscirà il maggior numero di volumi. E iniziamo con un manga dove ognuno di noi vorrebbe forse essere il protagonista ovvero Wards and Arem che esce con il numero 11 poi abbiamo Tokimeki Tonight La fuga d'amore di Mori Eto che arriva con il suo volume singolo e poi ce ne sarà probabilmente un altro entro fine marzo continuerà Super Xeros con il numero 5 arriverà il secondo numero di Sunset Light uno shonen che personalmente ho gradito abbastanza e sarà composto da 5 volumi totali arriverà il romanzo tratto dal film di One Piece stampede il box contenente i due volumi di Shin, Violence Jack e poi singolarmente verranno comunque stampati e pubblicati nel corso del mese di marzo per chi non ha acquistato il Girl 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 Bundle ci sarà la possibilità di acquistare il primo numero di Renta Girlfriend One Piece arriverà anche con il suo continuo regolare del manga con il numero 97 ed una delle novità più attese riguardo J-pop di questa settimana è sicuramente la pubblicazione del primo numero di Neon questa storia ambientata nell'epoca nazista dove troveremo il nono ragazzo ad avere il DNA all'interno del suo corpo il DNA di Hitler e quindi verrà inseguito e perseguitato dai nazisti per questo suo difetto diciamo di fabbrica di DNA poi uscirà anche come novità assoluta Watts Michael in Miao Edition arriverà Maior Accademia l'ultra analisis del character book Dr. Stone reboot Byakuya quindi lo spin off da un volume solo per quanto riguarda il padre di Senku proseguiranno anche Ito Rijime Mairo con il numero 4 e Orimiya con il numero 15 arriverà un box particolarmente importante di casa di Init chiamato Nishoka Kyodai Box che conterrà ben 3 volumi di questa autrice e appunto le ristampe di cui parlavo di Planet Manga si tratta di Black Clover i numeri 16 e 17 come detto secondo me di Planet ci sarà anche qualcos'altro che per adesso non ne siamo ancora conoscenza e queste diciamo che sono tutte le uscite che per adesso ci sono state comunicate appunto fatemi sapere voi cosa acquisterete fortunatamente diciamo che io non c'è poi così tanto che dovrò acquistare acquisterò comunque Watts Michael, Dr. Stone il continuo di One Piece, Neon e sono ancora indeciso sul box di Shemviolence Jack magari datemi qualche consiglio voi se ne vale oppure no la pena di acquistare questo box non avendo letto però tutta la serie principale ragazzi io con questo ho concluso il video spero che vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti e buona serata ciao